Guardando me Allora Ci dobbiamo mettere La maggior parte dei macicchi di tono La maggior parte degli italiani non lo sapevano Quindi Se noi dobbiamo lavorare sull'esterno coscio dobbiamo sapere come si scopre la caruncola Vediamo che quello che si riprende lo si scopre anche negli esercizi di tutti i giorni e la caruncola va tirata con le dita dei piedi verso il basso Adesso noi dobbiamo lavorare in situazione con In maniata destra piegata in questo modo Tire sinistro verso il basso Limita la posizione sopra Andiamo un po' di avanti per fare la linea del stroppo Immaginiamo da avere una ocula e un'altra bucola Ora scriviamo dei piccoli cerchi nel punto di già delle contrazione Ok? Questo vi permette di stare completamente aperti e rilasciati Se noi dobbiamo lavorare sulle spalle 1 2 3 4 5 6 7 8 Ancora 1 2 3 4 5 6 7 5 6 6 7 7 8 8 8 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 12 14 14 15 15 15 15 16 16 18 18 18 19 20 21 22 22 23 24 23 24 verso il basso, ginocchio, apro completamente, ma proprio completamente al punto che il ginocchio è quasi tutta la terra e stendo. 8, su, 7, ci resta un'apertura completa del gluteo, una chiusura, 5, e lo sentite, che questo ha una sensazione, cioè il gluteo chiude funzionalmente, perché se voi lo fate da qui a qui, non è la stessa cosa. Cioè, in consul, sentite chiaramente, ovviamente che c'è il funzionale, ma qualcosa che deve esserlo, 45, lo sentite chiaramente, no? E' un'apertura completa del gluteo, in modo che voi sentite bruciare tutti i gluteo in questo caso, eh? Allora, 1, su, facciamo piano, 2, su, dovete trovare voi il punto, eventualmente e ancora 5 gradi, 3, su, 4, su, 5, tirate il colpo di piede, per favore, su, ok? 6, ma, 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 6 C'è una testa che viene lì, continuo, uno, due, tre, quattro, e tre, c'è un pochino di metterlo fuori, vedete che è stato così con voi, ha detto, scegliamo una persona che vuole buttarmi addosso, dove andate che scende, qualcosa arriva, e fanno i cambi, stiamo qui, i cambi ci sono qui, queste cambi sono qui, stiamo qui, stiamo qui, stiamo Stendo, e torno, stendo, e torno, ispiro, e spiro, dovete fare questo adesso, guardate bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, allungo, stendo, respiro, spiro, sullevo il braccio stilistro, allungo, e torno, allungo, e torno, ispiro, 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 4, 3, 2, 1, l'ultimo, stendo. Ok, allungo, vediamo già, stendo, spiro, spiro, spiro. Spiro, scendiamo un po' di schiena, all'interno, ritorniamo i vicini, i vicini, i guti, le braccio è via a parte, prima, spiro, spiro, appoggio, ispiro. Spiro, 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 sp Stimo in alto, tempo qualche secondo, e stimo in alto, senza mai scendere in giro, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, stiamo in giro. Stimo in alto, qualche secondo, che è una idea, mentre siamo immobili dalla parte del cerebro del corpo, inspiro, allungo, torno, ispiro, allungo, inspiro, allungo, allungo, inspiro, allungo, Ispiro, allungo, ispiro, e con i bracci dietro, il vento verso l'esterno, percezione del bacino, stendo avanti, turno e appoggio, spingo in alto. 3, appoggio, spingo in alto, 4, appoggio, spingo in alto, 5, appoggio, spingo in alto, 6, appoggio, spingo in alto, 7, appoggio, spingo in alto, 8.